ciao buongiorno a tutti oggi vi racconto una cosa che è molto semplice da fare di anche molto utile soprattutto con alcuni dei miei video i primi video che facevo li facevo molto brevi quindi un pochino velocizzati ad esempio questo qua degli anelli origami che sono facilissimi sono un pochino velocizzati appunto per restare nel minuto minuto e mezzo di durata e tanti tanti tantissime persone mi dicono che non riescono a seguire perché è troppo veloce in realtà io lo facevo perché immagino che come me tante altre persone non abbiano il tempo di seguire un video per tanto tempo anche per capire se quel video fa al caso loro quindi se riescono poi a riprodurre quella cosa che appare in video nel tutorial a me piacciono i tutorial brevi insomma la faccio semplice e quindi li facevo brevi adesso li ho un pochino allungati comunque cerco di non farli mai troppo lunghi perché appunto io personalmente non avrei il tempo di seguire dei video lunghissimi perché ho tante tante cose da fare detto questo i video i video brevi scusa quelli velocizzati si possono usare comunque senza problemi in due modi uno è stoppando ogni volta che serve ad esempio io lo mando avanti ecco qua tutte le volte che rimane indietro su un un passaggio poi stopparlo e andare avanti e poi farlo ripartire se questa cosa qua ti risulta troppo macchinosa e noiosa non lo vuoi fare c'è un sistema molto semplice che mette a disposizione direttamente youtube nelle impostazioni per rallentare o velocizzare se il caso un video quindi basta cliccare qua sulla rotellina dove c'è scritto appunto impostazioni e appaiono le varie opzioni annotazioni velocità qualità ed è proprio sulla velocità molto semplicemente che possiamo agire normalmente è tarata su normale che è la velocità che ha impostato chi ha fatto il video ma si può rallentare fino a 0 25 ad esempio e allora il video diventa molto lento e quindi vedi puoi tranquillamente fare tutti i passaggi senza avere problemi se invece lo vuoi velocizzare semplicemente di nuovo sulla rotellina velocità invece che andare nelle parti superiori quindi da 0 andiamo alla velocità da 1 25 a 2 ed ecco che ti faccio vedere il video se ancora velocizzato ulteriormente per vedere appunto tutti i passaggi in brevissimo tempo per vedere se quel tipo di lavorazione fa al caso tu ad esempio ci sono degli origami che io non mi ci metto neanche a farli perché per me sono troppo lunghi e complessi quindi comunque non li faccio io non li propongo quindi rivediamo lento semplicemente impostazioni cliccando su impostazioni velocità e qui hai la scelta se vuoi farlo più lento molto più lento vai a 0 25 e facciamolo ripartire ecco qua che tutte ovviamente si rallenta anche l'audio quindi in questo caso c'è una musica se c'è la parola verrà rallentata però comunque si riesce a seguire perfettamente perlomeno i miei video si riescono a seguire perfettamente anche senza audio per cui non ci sono problemi ecco che ho svelato questa cosina perché veramente sotto ai miei video ci sono spesso questo sotto alcuni dei miei video ci sono spesso questi commenti è troppo veloce senato troppo veloce non si capisce eccetera che però appunto insomma se usiamo il mezzo se usiamo il computer questa cosa qua di velocizzare o rallentare i video dobbiamo impararla e quindi te l'ho raccontata in questo video qua ciao alla prossima